Un grave incidente è avvenuto ieri sull'Aurelia, località Fonte Blanda, poco dopo le 15.30 di giovedì 11 novembre. Nello schianto sono rimasti coinvolti due ragazzi, un giovane di 20 anni e una giovane di 16 anni, sono stati trasferiti all'ospedale Lescotte di Siena in gravi condizioni. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso Pegaso, al vaglio delle forze dell'ordine e la dinamica dell'incidente. Grazie a tutti.